Sono sei le proposte gratuite destinate a bambini e adolescenti per i centri estivi 2024, due di ambito sportivo e quattro di ambito ludico, ricreativo e laboratoriale. Le attività che saranno svolte in spazi pubblici, quali piazze, parchi o impianti sportivi, avranno finalità educativa e sportive, ludico, ricreative o laboratoriali e saranno rivolte a bambini e adolescenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni da organizzare tra il 15 luglio e il 30 settembre per una durata minima di quattro settimane e per almeno tre ore al giorno.